Castaldo, per un minuto e treze di seconda. Il Medio Oriente di questa regione continua lo scontro tra Iran e Arabia Saudita e alleati per la supremazia nella scacchiera regionale. Avviene a Sana'a, ma avviene anche a Beirut, a Baghdad e a Damasco. Le grandi potenze continuano a scommettere su entrambi gli schieramenti, spostandosi con una certa disinvoltura secondo le circostanze. Nel frattempo le popolazioni locali coinvolte sono soltanto pedine, sconfitte, sacrificate e dimenticate senza che nessuno abbia il coraggio di riconoscere che alla base si tratta meramente di un'instabilità voluta e finalizzata a riscrivere rapporti di forza. Forse qualcuno nel Golfo sarà tentato di liquidarla dividendo lo Yemen e il Yemen del nord.